Ciao amici di Tariato Games, buongiorno e buona domenica. Come dovreste già sapere, la domenica si fanno i giri gratis, ma oggi faccio qualcosa di più. Uso anche il contratto mirato a 5 stelle, perché oramai è in scadenza, e poi, se non lo trovo con il giro gratis, proverò a pescare Hola Island in versione superiorità aerea. È un giocatore molto interessante, che spero di pescare al massimo 4 possibilità su 11. Non sono neppure la metà, ma con un po'. Di fortuna non ce ne vuole tantissima, diciamo che ci sono il 36-37% di possibilità all'incirca. Speriamo che possa essere mio Haaland, ma non ho nessuna certezza. Però, però, ecco, spendere 400 monete per provare con questa percentuale di possibilità, io ci provo. Però ragazzi, prima vi devo chiedere un piacere. Questa sera alle 20 c'è il video decisivo per la promozione o meno in divisione 3. Vi chiedo una cortesia personale. Guardatevi la prima delle due partite del video e fatemi un commento su quella prima partita, perché sono curioso. Magari ho io una percezione distorta dal fatto che stavo giocando. Avrei davvero, davvero, davvero piacere a leggere cosa ne pensate di questa partita. Ovviamente l'ho già registrata nei giorni scorsi, quindi so com'è andata, è ovvio. E poi, se volete, vedete anche la seconda partita. Ma sono davvero curioso di leggere i vostri commenti. Questa sera alle 20 è programmato il video. Ovviamente lo potete vedere anche più tardi, alle 9, alle 10, alle 11 o domani mattina. Rimane sul canale per sempre. Va bene, detto tutto questo, andiamo a fare i nostri giri gratis. Partiamo alle cose meno interessanti. Il ticket giocatore standard brasiliano, 10 a 4 stelle, 209 a 3 stelle, 241 a 2 stelle e ci sono pure 5 giocatori a 1 stella. Spererei tanto di beccare i giocatori a 1 stella perché sono curioso di sapere chi sono. Tanto Brasile e Rao sono. Wow, 3 stelle, super. Luca Scal. Così si chiama. Sicuramente titolare fisso del mio Dream Team, statene certi. Va bene, andiamo nella lista dei giocatori speciali. Ecco, tra 5 giorni, quindi oggi lo prenderò, ho preso la mia decisione. Non sono molto contento, non ci sono tanti giocatori che mi interessano, ma devo prendere per forza qualcuno. Allora, intanto facciamo i due giri del Liga MX Day of the Dead. Non mi interessano neppure questi, però almeno c'è la musichichia carina. Quattro stelle. valo vabbè quando torna l'evento messicano potrebbe anche tornarmi utile eccolo qui valo yes scusate e va bene andiamo col secondo quattro stelle vittinio vasiliero vediamo e da vasiliero ci ho acchiappato dal cognome e allora ragazzi contratta 5 stelle ci ho ragionato sopra è una scelta per così dire al ribasso nel senso che baldanzi no ciò no gordon no aymar oro no antonio silva pure 82 no graven beck no uno poteva decidere a livello di parametri tra colomoni e kuruseschi ora nessuno dei due mi fa impazzire però colomoni è un attaccante rientro per il mio modo di giocare non mi serve assolutamente nulla e quindi vado a prendere kuruseschi che magari potrebbe con valutazione a potrebbe anche entrare nelle nelle rotazioni però purtroppo non c'era giocatore che che mi attraesse di più non mi attrae molto neppure kuluseschi ma a questo punto questo era quello che passava il convento dei contratti mirati e ora veniamo alle cose importanti player skill aerei al superiori di cioè già a land normale è quello che è quindi bellingham ce l'ho già che arriva a 99 giocatore chiave anche il mio mi pare che è un giocatore chiave sané pure bel giocatore molto interessante con quelle parametri penso che esa verrebbe lo stesso che ti ha già mi interessa meno anche se un opportunista potrebbe essere interessante buongiorno 93 è un ottimo giocatore però ho molti giocatori forti in quella in quella zona di campo lo zano pure molto veloce di marco al passaggio alto molto interessante magari più come terzino sinistro lo vedrei isco pinnock cevaliere e pavoletti diciamo che non mi interessano ma io ragazzi come trovo holland mi fermo speriamo di beccarlo al primo giro allora fatemi vedere prima di iniziare a fare versacci quanti giocatori ci sono della premier league c'è anche ta e basta però ne sono due quindi se vedo premier league anche no anche pinnock sono tre quindi ecco se vedo premier league english league non c'è subito da esultare perché ce ne sono tre diciamo che mi piacerebbe non vedere nessun simbolo perché anche sané è il giocatore mi interessa di più per secondo e poi potrebbe essere anche interessante di marco comunque a me interessa l'interessa lui iniziamo a girare facciamo il primo giro e vediamo come va liga spagnola magari è bellingham sì andiamo subito a fare un confronto eccolo qui ottimo giocatore però ripeto ce l'ho già in squadra andiamo a vedere a fare un confronto fra i due allora schema di gioco eccolo qui quello che già ho riserve andiamo a mettere iniesta andiamo a eccoli qui allora uno e non me lo fa fare e come faccio però non posso fare un confronto non me lo fa fare perché perché le dovremmi uno lo mette in squadra e dopo cambiano i parametri ovviamente arriva a 99 non ho modo vabbè diamo un'occhiata veloce così a occhio questo è quello nuovo c'è quel 92 di controllo palla e 87 in possesso stretto 83 73 81 e questo in teoria pare 80 89 80 fatemi fare una foto va scusate così almeno è giusta la il parametro allora questo è quello vecchio questo è quello nuovo allora abbiamo comportamento offensivo 80 80 uguale controllo palla è meglio questo tre punti in più dribbling uguale possesso stretto uguale passaggio raso terra l'altro c'è un punticino di più passaggio alto sono uguali finalizzazioni sono uguali colpo di testa calci da fermo e tira giro uguali comportamento difensivo uguali contrasto uguali aggressività uguali coinvolgimento difensivo uguali velocità uguali accelerazione uguali potenza di tiro uguali salto uguali sono molto simili però questo qui a tre punti in più in controllo palla e basta cioè è uguale all'altro tutti gli altri parametri sono uguali hanno tutte e due 99 ma questo è meglio in controllo palla tre punti in più sì sì a no questa due punti meno in passaggio raso terra però c'è una tre punti in più in controllo palla onestamente nel nel computo dell'overall questo è leggermente meglio un punticino di più cambia solo quello tutti gli altri parametri sono uguali a tre punti in più in controllo palla ea due punti a no a tre punti meno in passaggio raso terra sono queste le uniche differenze più controllo palla e meno passaggio raso terra chi mi consigliate chi mi consigliate vediamo abilità giocatore questo non c'è il passaggio filtrante ai 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 e questo invece mi pare che ce l'ha passaggio filtrante e mi tengo il vecchio mi tengo il vecchio così cambia pochissimo dall'altro vabbè questo c'è un po più di giorni di contratto mettiamola così abbastanza inutile ma è pescata nonostante sia un grandissimo giocatore controllo palla passaggio ma quello il passaggio filtrante che a me serve molto quindi pesca pessima pescata era meglio sane va bene secondo giro vediamo se si è quello giusto questo è la long grade shooting english league english league english league english league cio 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 cinque o cio 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 non è non è non è pinnock e pinnock onestamente e siamo a due giri che non sono andati particolarmente bene rimangono 9 giocatori speriamo bene ragazzi adesso se English League ne rimangono solo due le possibilità si alzano proviamo English 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 se non English niente niente eh beh vabbè questa è una bella pescata invece era meglio Haaland però andiamolo un po' a vedere cioè qui arriva in velocità 97 eh questa è una bella pescata sono contento perché dopo Haaland era l'unico giocatore che mi interessava davvero allora sta qui eccolo qui penso che in essa 98 prende 4 punti addirittura oh bello 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 bellissima pescata sono giocatore chiave sono contentissimo punta no ovviamente Eda Eda pure 98 uh che bello comunque le girate non sono state inutili perché anche se non pescherò Haaland nell'ultima Sané è un gran bel giocatore sono molto contento e lo proverò da domani sera perché stasera ovviamente ho già registrato ragazzi speriamo di beccare anche Haaland io ci provo oramai se non è Haaland il migliore Lozano ma Di Markov si vabbè però io spero spero lui spero Haaland vediamo proviamo niente 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 lozano è sempre un piacere di vedere il ciuchi ma ma spera Vinal anche lui parametri sono molto interessanti però lì davanti sulle fasce o solo davvero l'imbarazzo delle scelte sanelli e messi di là un attimo lozano in campo quanto arriva era 93 eccolo 96 vedete ha fatto 4 sa ne lozano fa 398 velocità grazie al allenatore bustante non ha parametri brutti e per carità velocissimo pure lui magari domani sera lo provo anche perché sono tutte e due a è questo attacco qui mi che malaccio dai lo proverò perché tanto poi domani sera facciamo l'evento per le 50 monete ha però domani sera non penso che posso posso usarli no perché stiamo parlando dell'evento brasiliano e allora vabbè li proverò nel campionato la limited non era ma sì 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 posso farlo la limited con era quello che quello non è il brasiliano l'evento offline bene 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 così lo posso provare riprovo tutte e due vediamo come va e ragazzi niente niente da fare per holland vado a recuperare quello vecchio che era un po meno forte arriva di san 99 anzi lo vado a recuperare subito si lo vediamo in campo come opzioni elenco filtro no anzi filtro ordina valutazione generale però mi piaceva prendere quello nuovo devo dirvi la verità eccolo qui e adesso l'altro era più forte indubbiamente rinnovo del contratto per il momento una ventina di giorni eccolo qui andiamo a togliere 99 e che per carità mica male però quell'altro mi mi attizzava di più ragazzi vabbè dai 400 monete si possono togliere poi quel sane e buon molto buono ed è buono anche ed è buono anche lo zano anche se preferivo quell'ala va bene ragazzi per oggi è tutto abbiamo fatto i giri gratis abbiamo preso il contratto mirato coluseschi pure che può essere interessante lo livellerò nei prossimi quando quando è adesso c'è poco senso e a questa sera allora quindi a questa sera fa vedete la prima partita e commentatela vi ringrazio sono curioso di leggere i vostri commenti buona domenica ragazzi ciao